Prego Matt Ok Inizia la Grand Final Ho perso 3-2 Sarà una Grand Final da ricordare Confermo Giacatori eccellenti Ho detto che è eccellente Devo dimostrare che la Liguria non è free Perché sono i due verdi dalla Loser? Perché avete sbagliato? Cambiano Ah perché li ha bruciati Togli anche la Deer dalla Loser Ah non devo dirla Gli ha tolto la prima scocco Così? Ok Ok E tra l'altro è anche bella Questa mi posso vedere Sì Stiamo già iniziando con le combo di Peach Che sono mica male Bellissimo Evo Una Grand Final da ricordare Ok onesto? Ho una Grand Final da non ricordare Dall'inizio dell'altro posto Che Ero curioso di vedere Questi due giocatori Appunto Beccarsi Ma davvero davvero curioso Sì sì ma anche io Vabbè la Grand Final La Grand Final Giù scontata della storia Dove essere Abbavano Però Senta questo E muore Eh non sai niente Che dire sul matchup Sono entrambi i PG Che Sono entrambi i PG Che hanno un advantage Mostruoso Sì Con un sacco di Falco che ti continua a fare Del frame trap Che ti comba Che ti fatti da mica Che ti piccoli E qui ci vuole sue combo assurde Che ti portano Della parte dell'Osted E fanno 80% Molto stesso Insomma sì Entrambi i PG Con un casino di catching Che dico Che entrano Ti fanno 70 Bellissimo Bear Però non è abbastanza Anche lì Un'altra con Sirm E il Fair Che Qui è la prima stock Che ha spaccati tutti Quell'uomo Ok in tutto ciò Segniamo L'1 a 0 Per L'uomo Da una parte È stato bello vedere L'uomo dead Ok È stata un'ottima cosa Che Tony sia andato in l'Uver Perché così Ce l'abbiamo visti tutti Così nella campanile Ma che bello Vedere Tommella in Liguria Noi infatti è bellissimo Non avevo l'ora Che succedesse Però l'altro Sono invertiti Nella Sì sono invertiti No no va bene No va bene Allora devo fare Tommella luce Ma è giusto È giusto Dead winner Eh non li ho ancora Sbicciati Ok Vediamo intanto Dopo non vediamo niente Ora si vede Sì Prontamente Però Raven Ok Tommella che si è messa Proprio di sensazione Da corner Tommella che si è messa LUCHA Tessizialmente si Nello stage del download Con me è la proposta di schifarci Stiamo contemplando Comunque Cioè Anche se stanno andando abbastanza tranquilli Comunque si stanno parlando Ecco adesso purtroppo Tommy E la situazione di juggle Ce l'ha fatta comunque Perché Ecco così Sturfloat Riesce a Riesce a Riesce a stallare Comunque sia Una cosa molto Non so Quanto sia La tantissima Quella che positiva Che cosa Perché tra l'altro Come diceva Jaguar prima Pitch bene o male La maggior parte delle volte Approcia dall'alto Approcia dall'alto Sì Ma non è che Ti giuggala così Beh sì Però per falcro Non è un problema Cioè per falcro non è un problema Penirla questa cosa qua Quella la cosa Quindi Quindi dirde riesce ad entrare Quindi dirde riesce ad entrare Praticamente sempre Bravissimo Bellissimo Bellissimo Questa rid E' riuscita a riservarlo Però anche mi avevamo fatto Reversare a legge La cosa che rende con me La quasi bravo È che lui Non gioca camperando Non gioca aggressivo Non gioca aggressivo Perché lui Gioca Gioca al neutral C'è poco da dire Come si fa giocare al neutral Giocando il neutral Possiamo dire che si sa switchare Tra Sa benissimo Quando è il momento di essere aggressivo E quando è il momento di essere paziente In generale Lui gioca in maniera molto calma E piano piano Franca danno Cioè Lui in generale Non ho detto Mita mai E derby E derby rende difficile Che fa cosa Perché Derby in generale Quando gioca Falco proprio E' veramente Molto opprimente Sì E rende difficile E' questa cosa In generale E' il tipo di caldo Che piace Molto opprimente La vanessa Sama dc Sì E' il tipo di caldo Lesha track Da un throw Combo time No Da un throw Poca roba Di nuovo Tenta la sua serie Di che ho fatto prima Però stavolta Non era abbastanza Per fare la kill Per prendere una kill Sì Vero Vero Sì La ruzza La ruzza Per sento Short of air All edge Aspetta Non ho la sua Cosa io E ruzza Quando all edge E tu sei all edge Quando tu sei all edge Sì E lui ti stai strappando Passo lo short of air Anche con cloud Con joker Qualsiasi Vi faccio Per top of air Quella è la ruzza Per sento La ruzza La ruzza Per sento Ok Come ha fatto Da evitare quel laser Comunque Sicunzione E' simile a quella Di prima Eh sì Purtroppo Quelle Lo hai detto Pitch L'ha colpito 40 E' comunque Solo la 40 Per cento 50 Fattibile E' abbastanza Fattibilissima Per entrambi Sì Adesso Comunque Poi una volta Che appunto Vedi Entri in look Di falco Ok Tornate Cosa devo fare Lì Ha tentato Quella E li ha preso Con quel Vince il game 2 E vince con questo game 2 Potenziale 2 a 0 Per derda Solo a 40 Ok Sarà arrivato più tardi Il cast E' abbastanza Cioè Prima era a 40 Adesso è a 109 Che cazzo devo dire È solo a 40 Sì era solo a 40 Prima che si pigliasse Per te Se ne ho 32 volte Metti il delay di Twitch Eh appunto No 40 è troppo Il delay di Twitch Quanto è tipo I 10 secondi Non lo vedete Saranno loro Che sono da telefono Non lo so Ok Spigliate cose migliori Non usate Twitch Da telefono Ok Di nuovo PS2 Penso sei buono per entrambi Lo stage da download per Tommella Che Lo stage del download per Tommella L'ha detto L'han detto la chat Io mi dissocio Vai 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 Infatti hai detto L'hanno detto L'hanno detto Io mi dissocio Ok Non so di niente Potenzialmente Intanto Arranca danni Dopo Spigliate Di vantaggi per Tommella Adesso invece è off stage Cioè non è questo Prima che faccio off stage Tenta questo edgeguard Che non ha funzionato Molto bravo Lidire comunque Essere paziente Vedi anche lì Lui visto che non puoi punire Side B Aspetti Vedi cosa fa Pici dopo Esatto Esatto Per mix up Con il Dairon Che non ha portato Niente Peccato Però era bella l'idea Sì E smash Purtroppo Abbattante rischiose Probabilmente tentava il Perry Lì Sì All'altro idato Con cosa poi Fair dal ledge Bravissima What the fuck Cosa sto vedendo? No è il fettore di palco C'è una mossa Sì Ma ma Sì C'è già Sì 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 Sto matchato Dove è Dove è Dove è Sto matchato Sì Cose che vedi Sono in Liguria Come hai detto qui Due allo scosto Nel Cile La Liguria È una gingola Non è una regione Dove si è già fatto Nel Cile Ecco Il nuovo conferma Il nuovo 40% Per davvero Stavolta Esatto Vero chat 40% Ora è a 70% Oh bello Decair Eh sì Bravo Stavolta per roll E l'ha preso Ha fatto la Ha fatto la Ha fatto la Di della Sardegna La Di della Sardegna Sbagliata 90% Ce la può ancora fare Perché c'è stata Diffica Alla fine La Di di nonna Isa 40% Purtroppo Ha sbagliato il tech chase Lì Esatto Wow Ah vabbè Mi sa che anche 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 Tommella Ha fatto la Di della Sardegna Lì Di niente Non chiede nì Perché so di nonna Isa Non chiedermelo Lo so e basta Apeir 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 ancora Brutta situazione Questa Non c'è niente che puoi fare In alcuni momenti Controfalco Ti ti Esatto Mi capisco perché Ha buttato Mister Sardegna Cioè Penso perché Perché Falco ha Reflector Quindi è un rischio Questa cosa che è No no dico proprio È Dead che ha buttato Mister Sardegna Ah più bello proprio Ok Ha sbancato qua il Il Sardegna In questo momento Apeir Molto close Aia Quest'air doge Esatto È la fine Purtroppo Per Tommella E' il top off E' il top off Dov'è fame d'orso